Sopro di un complesso Sopro scomodo Metto tutto in una L'obiettivo è quello di fare musica, quindi di suonare live, di scrivere, di andare avanti proprio nell'evoluzione artistica. Noi abbiamo quest'idea di come deve essere il nostro sound, di come deve suonare il nostro disco e di come vorremmo essere noi e di come vediamo la musica. Per cui questa band è nata proprio con questo intento perché abbiamo iniziato io e Stefano e abbiamo tirato su questa band di ragazzi che ovviamente conoscevamo già, avevamo già avuto diverse esperienze musicali proprio per creare questo suono. Poi riguardo al suono analogico sai è sempre un discorso di anche lì recuperare cose del passato. Viviamo in un'epoca dove tutto corre molto veloce, dove ci sono cambiamenti di anno in anno praticamente molto profondi. Però come spesso accade in tanti ambiti dell'essere umano nella storia, poi comunque si vanno a recuperare dei valori o delle situazioni, anche dei mezzi che ci appartenevano e che abbiamo abbandonato in nome del progresso, ma che poi alla fine di un ciclo si capisce che magari funzionavano meglio. Il disco è composto da dieci brani, di cui cinque finiranno in questo primo EP e cinque nel prossimo. Però suonano analogico con la sua vendetta faremo il vinile, quindi ci sarà un lato B che abbiamo già registrato e abbiamo registrato live. Si sente la differenza nel senso che comunque suonare live per una band ha tutta un'altra carica, perché quella è la dimensione più bella, poi anche la più vera alla fine. Non ci sono filtri per cui ci siamo noi e la musica. Riderò parla di tutti quei no che si prendono nella vita, di tutti quei pianti che si fanno nella vita, sui quali poi dopo, magari dopo anni, dopo mesi, ci si ritrova a ridere. Per cui grazie anche al regista che ha curato il videoclip David The Voice, insieme è venuta fuori questa idea, che l'idea registrica ovviamente è stata sua, quindi del fatto che tutto vada al contrario. Ed è bello comunque poi affidare la tua arte, il tuo messaggio a qualcun altro che la reinterpreta in un altro modo, dandogli anche un, anche fosse un'interpretazione diversa, però magari ti fa vedere il tutto anche da un altro aspetto e questo è molto bello. Per cui con il regista abbiamo lavorato un po' in questo modo, cioè gli abbiamo dato anche carta bianca su quello che poteva essere il soggetto, per la quale noi ci siamo anche esaltati sul fatto di vederlo in quel modo, la canzone. Non ho il coraggio, ma mi servirà, per staccarmi da questa età, giovane, ribelle, femmina. È bello anche avere intorno persone, artisti, che fanno quindi un fotografo, un artista, un regista, un artista, illustratori, insomma è bellissimo potersi confrontare con tutti questi mondi diversi e possono nascere cose molto interessanti, pensiamo che solo ai Pink Floyd, cioè loro facevano una musica ovviamente pazzesca, ma sono anche stati bravi a capire chi avere di fianco, perché il loro mondo comunque è molto visivo e insomma hanno avuto dei collaboratori molto bravi. Sarebbe bello appunto poter far nascere proprio anche collaborazioni a pari livello. Infatti la stessa cosa l'abbiamo fatta anche per quella che sarà la grafica del disco, che ovviamente adesso non possiamo troppo parlarne perché non c'è ancora, non è visibile, però ci siamo affidati a un artista comunque che ha in qualche modo interpretato visivamente, appunto graficamente, il titolo dell'epidio. Riderò, riderò perché la mia è violenta, riderò, riderò della tua luce quando si sarà spenta, riderò, riderò perché la mia sarà ancora violenta. Ciao, siamo in Santa Margaret. Un saluto a TVN. Un saluto a TVN. Un saluto a TVN.